ci troviamo qui con grande onore e piacere con il maestro Massimo Ghini ecco maestro grazie per essere nei nostri microfoni grazie a voi perché io peraltro in questo teatro debutto nel senso che questa tournée di questo spettacolo mi sta facendo fare con mia grande soddisfazione anche dei giri in piazze che non avevo mai fatto e Cerignola in Puglia è un po' quella perché la Puglia da questo punto di vista è un po' egoista con me io faccio Bari, ho fatto Lecce ma mi mancano un po' tante piazze spero che l'anno prossimo mi facciano fare più giri nel senso che è una regione talmente bella, talmente importante talmente culturalmente importante che mi piacerebbe debutare in ancora più teatri ecco lei debutta stasera con uno spettacolo Un'ora di Tranquillità state riscuotendo comunque successi con questo spettacolo in giro per l'Italia ecco le sue aspettative per questo spettacolo se sono completamente soddisfatte o volete ancora di più rigirare riportare di nuovo questo spettacolo in altri teatri italiani guarda questo spettacolo continuerà per tutta la prossima stagione anche peraltro per un motivo perché quest'anno purtroppo dobbiamo saltare Roma nel senso che saltiamo Roma perché è saltato il teatro adesso sembra una battuta ma non so se credo che pubblico voi vi ricordiate che un mese e mezzo fa è successa una cosa incresciosissima a Roma è questo palazzo che non è crollato il palazzo è un piano che è crollato sopra l'altra perché questo è il paese dei lavori fatti male ecco in quel caso lì c'era credo una complicità estrema di chi ha lavorato di chi ha caricato di pesi questo terrazzo soprattutto sta che il teatro olimpico che era il teatro dovevamo andare noi non ha subito peraltro nessun danno e ci tengo a dirlo però insomma i permessi giustamente la polizia i vigili del fuoco quindi noi dovevamo arrivare a fare tutto aprile a Roma e niente è saltato per quest'anno faremo la prossima stagione la cosa che mi fa piacere è di aver visto io temevo un po' nel senso ogni volta uno si gioca pure una carta questo è uno spettacolo completamente nuovo per il pubblico italiano questo è un grande successo francese che è stato fatto in teatro a Parigi da Fabrice Lucchini questo grande sia attore che regista è stato fatto già un film di questo spettacolo in italiano si intitolava Tutti i passi in casa mia e quando io un anno fa ho comprato i diritti di questa commedia sapevo un po' di non dico rischiare però in qualche maniera la novità nel nostro paese in tutte le cose dalla politica alla cultura a qualunque cosa rischiano sempre di pagare la tassa invece devo dire che ho visto fin da adesso una parte partecipazione non solo numerica del pubblico ma una partecipazione questa è una commedia molto divertente però è una commedia un pochino diversa rispetto qui dentro c'è quel tipo di comicità molto più non solo francese un po' più di situazione noi siamo per la commedia della battuta questa è una commedia di situazione io ho cercato di forzare i toni non tanto della commedia quanto delle situazioni io mi piacevo, ho sempre detto che questa poi peraltro è la mia prima regia e dentro ci ho voluto mettere un'anima la Black Edwards Black Edwards per chi ci segue non lo sa è il regista della Pantera Rosa di tutta quella cinematografia comica, brillante anni 70 mi piaceva molto perché era quasi surreale ecco io ho voluto un po' rimettere questo dentro questo testo e ho visto che la risposta del pubblico è stata molto forte peraltro affrontando adesso il pubblico del sud perché il pubblico del sud è quello più difficile perché è quello che non ride nelle commedia se vieni con Amleto sei fatto sei felice perché tu ti fai se vieni con una cosa divertente in Puglia, in Campania, in Sicilia dappertutto c'è questo fatto che non ridono non ridono semplicemente perché la risata è più legata al comico alla comicità c'è un campaninismo culturale non so come dire allora all'inizio c'è un po' di attenzione di voglia di sapere ma siccome questa commedia è scritta in una maniera talmente trascinante che alla fine veniamo già da due repliche fatte per esempio a Foggia e fatte adesso anche nelle Marche insomma ho cominciato a sentire che invece la risposta del pubblico è diversa rispetto a quella ricevuta al nord ma c'è lo stesso perché poi alla fine come dire i conti tornano di tutto quello che facciamo ecco nel suo curriculum lei ha lavorato insieme anche con registri del Caribo di Franco Zeffirelli di Lavati di Streckler un aggettivo per definirli ognuno di questi tre guarda quello che impropriamente usi con me e che mi tengo perché sento che hai fatto un grande affetto io non sono un maestro io dico sempre che sono un bidello del merziere che faccio nel senso il bidello era una bella figura a scuola perché comunque era quello che ti apriva e ti faceva uscire e ti portava la merenda insomma era una figura no nel senso che quelli sono maestri e la mia fortuna e quella che dico sempre è stata quella di aver avuto la possibilità di lavorare con questi maestri e in qualche maniera di continuare perché insomma poi ce ne stanno ancora e questo mi continua a capitare in questo caso qui parlando di Streller parlando di Zeffirelli di Gassman di Lavia sono stati proprio la formazione perché io ho avuto la grande chance la grande possibilità di lavorare con loro all'inizio ero proprio attore giovane in tutti i sensi anagraficamente e giovane proprio d'esperienza e ho debuttato con questi con questi grandi maestri e devo dire questa la ritengo la mia più grande fortuna perché è come se veramente giochi a pallone e debuti col Barcellona insomma in qualche maniera nel senso che mi hanno messo come dire i fondamentali me li hanno costruiti loro e mi è servito tanto poi io per un periodo mi sono allontanato diciamo dal teatro fatto in maniera continuativa perché poi il cinema mi ha portato via continuo a essere parte della mia vita per l'amor di Dio ed è una parte che amo moltissimo però non mi dimentico mai proprio forse perché sono cresciuto prima qua di farlo lo spettacolo a teatro infatti mi divido adesso che chiaramente uno ha più forza anche di nome di notorietà mi divido nel senso che faccio il cinema quando deve essere fatto nel periodo primavera estate durante l'inverno devo dire mi diverto molto perché questa rimane sempre un po' la mia casa ecco lei ha detto giustamente che si divide tra teatro e cinema tra cui ricordiamo anche il cinema e i film che lei ha fatto anche con Christian De Sica ecco lavorare con Christian De Sica com'è lavorare una curiosità lavorare con un grande attore guarda io ho fatto oggi mi ricordo 8 o 9 film con Christian perché noi non abbiamo fatto solo film di Natale ma abbiamo fatto altri film io sono stato anche diretto da Christian ci unisce peraltro un'amicizia un'amicizia come dire extra lavoro perché noi ci siamo conosciuti giovanissimi ci siamo rimasti simpatici e continuiamo a rimanerci simpatici quindi comunichiamo continuamente quindi non è solo un rapporto strettamente di lavoro sai che poi è quello che abbiamo fatto che ti dà la risposta migliore nel senso uno può dire poi tante parole parlando di un collega quello che vedete e che avete visto e che vedrete anche in futuro insieme è il frutto di una grande complicità che è contemporaneamente una grande stima dell'uno verso l'altro anche se poi durante la nostra carriera abbiamo fatto anche cose diverse per scelte perché la storia la vita di un artista è così solo che io e lui ci divertiamo dannatamente ma proprio divertiamo veramente ci divertiamo non è una cosa proprio ci divertiamo a fare delle stupidaggine non solo e quello si traduce secondo me poi nel risultato perché la gente ha sempre visto che quello che facciamo non è mai forzato non c'è fatica c'è gioco e siccome è una storia vecchia ma insomma in inglese e in francese si dice sempre si dice to play o si dice joué mentre da noi è recitare che già è difficile la parola invece è giocare giocare ricordatevi sempre che il gioco è la cosa più seria che esiste i bambini quando giocano sono serissimi noi uguali io e lui giochiamo molto bene insieme una curiosità vedendo il suo curriculum lei anche ha intrapreso oltre il cinema e il teatro anche l'attività politica lei è anche responsabile del settore cultura del partito democratico sono stato sono stato sono stato un suo parere sull'attuale situazione politica particolare del partito in cui lei è stato questa è una domanda difficilissima per un motivo molto semplice perché lo stato di costruttiva confusione la voglio chiamare così che sta attraversando il mio partito penso e spero che sia come posso dire una sorta di febbre di crescita dico questo perché da una parte c'è la solita e continua malattia endemica della sinistra io sono un uomo che viene dalla storia della sinistra di famiglia di tutta una serie di cose e la sinistra è sempre eternamente divisa si divide perché il massimo del risultato che riesce a ottenere è la divisione che dimostra la differenza di chi si pensa sempre beneficiario di una verità e questa purtroppo secondo me è una storia che deve finire e che è finita dall'altra parte l'altro corpo col quale la sinistra si è unita o viceversa il centro che si è unito con la sinistra sta cercando discutendo disintossicandosi arrabbiandosi di mettere magari in campo le migliori forze e contemporaneamente secondo me si porta ancora dietro dei fardelli di potere che la intossicano io la vedo così per cui ne do una a ognuno e do la sua nel momento in cui è nata l'idea di fondare questo tipo di partito e quest'idea e questo progetto era proprio di superare certe barriere storiche antiche oramai desuete finite e cercare di costruire questo progetto il mio piccolo pensiero è che forse non ci siamo ancora riusciti anzi sicuramente non ci siamo riusciti però spero lo stesso perché la politica è fatta anche di sogni di speranza di cose che tutto questo malessere questa fatica e questa difficoltà sia in preparazione poi del progetto vero paese in più come tutti i paesi europei come il mondo sta attraversando una crisi che non finisce sembra che non finisce sembra che sta per finire non finisce comunque è una crisi epica in tutti i sensi perché stanno cambiando proprio le cose del mondo a tutti i livelli certo quella non può essere una scusa per non fare a maggior ragione anzi deve essere il motivo lo slancio per fare posso dire una cosa noi ne abbiamo dette ne abbiamo fatte forse continueremo a farle adesso lo campo a voi anche quello sul quale spero io ho quattro figli e gli rompo le schiatole perché io sto dietro adesso gioco quarterback come dicono in America no sto dietro e lancio la palla ma quelli che corrono dovete essere voi anche arrabbiandovi anche indignandovi però forse insieme ecco non staccati insieme la nostra esperienza e la vostra vitalità così si cambiano le cose ecco infatti siamo arrivati perché le volevo chiedere cosa direbbe ai giovani di oggi per modificare ecco cambiare la crisi che c'è per cercare di sovvertire un attimo le situazioni che si sono create attualmente nel nostro paese Italia guarda una cosa che che dico sempre ai miei figli è non è facile però è quella di avere una passione quello che sento che manca è la passione che può essere una passione artistica può essere una passione culturale può essere una passione sportiva può essere politica però che questa passione divenga il centro del proprio essere del proprio voler fare qualcosa nel senso quello che noi abbiamo fatto anche di sbagliatissimo la mia generazione però era quello di seguire una passione poi l'età la storia ci hanno aiutato a capire meglio forse a cambiare direzione forse a capire che non bisognava fare così o fare così però partendo da un discorso di passione oggi mi accorgo forse la pesante eredità sbagliata che vediamo non vi abbiamo trasmesso un certo tipo di passione il benessere è stato l'obiettivo la difficoltà del benessere va creato anche a voi confusione oggi dobbiamo ritornare a spingere di nuovo per quello che possiamo ancora fare a spingervi verso una passione io ho quattro figli quindi giovanissimi che fanno le stesse cose che fanno tutti voglio dire molto normali per fortuna da questo punto di vista o per sfortuna non lo so però quello sono adesso uno finalmente debutta fra pochi giorni in teatro io non gli ho mai detto non l'ho mai spinto non so come dire non l'ho violentato da questo punto di vista per fare questa cosa però gli ho sempre detto dico guarda è il giorno che ti scatta la passione che tu capisci questa cosa è il momento che gli deve andare dietro e lui me l'ha detto un giorno e capisco che la vuole fare perché poi non vuole fare poi assolutamente rifiuta quello che ho fatto io vuole fare tante cose sta cominciando con uno spettacolo a teatro ci si sta impegnando e io ringrazio il Signore proprio di questo cioè del fatto che gli sento una passione ma non lo aiuterò nemmeno adesso nel senso che non lo voglio aiutare lo voglio solo spronare alla passione non aiutare perché lo devo raccomandare un paese dei raccomandati crea degli sbandati io non devo raccomandare io devo incentivare io devo stimola a provocare quello faccio bene non raccomandare perfetto la ringraziamo e un ultima cosa un saluto ai nostri amici di cerignolaviva.it che ci saranno ascoltando amici di cerignolaviva.it che già mi sembra come dire di per sé non sono un loco ma una promessa ecco e allora dico proseguite su questa strada e viva cerignola grazie grazie